Il Museo del Baliere ha aperto le porte dopo il periodo di fermo dettato dall'emergenza sanitaria. Il museo, ospitato in una villa settecentesca nel comune di Colli al Metauro, che vanta nove sale per altrettante tematiche suddivise tra percezione, fisica, onde, luce, forze elettromagnetiche e matematica, scienza della terra, della vita e astronomia, è pronta ad offrire iniziative ai visitatori. Abbiamo riperto con il sostizio d'estate, che è stata una data simbolica per noi, perché essendo un museo astronomico abbiamo così scelto, ci è venuta poi un po' per caso, ma è venuta bene questa coincidenza con il giorno più lungo dell'anno da un punto di vista astronomico. E per adesso abbiamo deciso di aprire la sera, il sabato e la domenica, con la possibilità di visitare le sale e di mettere l'occhio ai telescopi, sempre tutto in completa sicurezza perché abbiamo predisposto ingressi contingentati, prenotazione obbligatoria. Tra l'altro abbiamo anche un gioco che abbiamo intitolato Fuga dal museo, perciò anche le persone che già conoscono il museo del Bali e che vogliono venire a trovarci, avranno a disposizione un gioco nelle sale, una specie di una caccia agli indizi, che potranno effettuare grazie all'uso del loro smartphone e con dei QR code che sono sparsi un pochino nelle sale. Ci stiamo preparando per fare poi eventi estivi, anche sfruttando il parco. Novità assoluta è la nuova strumentazione della stanza planetario, ad alta tecnologia che permette ai visitatori di immergersi alla vista di suggestivi spettacoli, guidati che permettono di osservare costellazioni pianeti e di parlare di argomenti di astronomia, orientamento e mitologia. La stanza, costituita da una cupola di 8 metri di diametro, conta una sessantina di posti a sedere sotto, ma per le regole di distanziamento sociale potranno accedere soltanto una ventina circa di persone. Sabato 11 luglio inaugureremo il nuovo planetario del museo del Bali. Abbiamo infatti sostituito la macchina ottica che avevamo addirittura da prima dell'inizio dell'inaugurazione del museo nel 2004, quindi era già in funzione all'epoca, l'abbiamo sostituita con una macchina digitale. Possiamo rispondere al telefono, però quello che io vi consiglio, che consiglio a tutti, è mandare una mail a info.chiocciolomuseodelbali.it a cui risponderemo e dirotteremo eventualmente i visitatori nei canali più indicati per trovare le informazioni che servono.